Scende in piazza domani mattina a livello nazionale con delle iniziative che saranno organizzate a livello regionale per quanto riguarda il Piemonte, il luogo sarà Piazza Castello a Torino sotto la sede della regione. Si scende in piazza per tutelare i diritti dei lavoratori, quelli più in difficoltà, i cosiddetti precari, i somministrati, che sono quei lavoratori che nel comparto sanitario da sempre, ma in particolar modo nel periodo Covid, hanno contribuito negli ospedali, ma anche nella pulizia dei reparti, nel funzionamento delle mense, a far sì che il sistema non si fermasse. Quindi hanno aiutato a dare delle risposte ai pazienti, hanno aiutato i medici, i paramedici e gli infermieri a portare avanti le esigenze, le necessità particolari che c'erano in quei giorni caldissimi. Oggi accade che di questi lavoratori ci si è dimenticati, mentre sono stati pensati dei riconoscimenti anche economici che verranno pagati nei prossimi giorni per il personale medico, paramedico, per gli infermieri, per i cosiddetti somministrati non c'è nulla ed è peccato, un peccato e grave dimenticarsi invece di quelli che hanno fatto nei momenti che ricordavo prima. Quindi si scende in piazza per chiedere un riconoscimento economico, ma anche in prospettiva di una riorganizzazione del sistema socio-sanitario, che dovrà essere potenziato, sono arrivati i fondi dell'Europa, proprio nei giorni passati, per il potenziamento del sistema socio-sanitario. Dal nostro punto di vista è indispensabile, quando si parla di organico, di parlare della conferma di questi lavoratori che oggi non sono stabili, perché sono portatori di esperienze e professionalità che non vanno perse.